la rana nel pozzo quinto appuntamento benvenuti oggi ospite il segretario cittadino del partito democratico vincenzo di fazio grazie dell'invito e buonasera a tutti come sta tutto bene tutto bene non ci lamentiamo partito democratico ma che cos'è oggi il partito democratico perché in tanti se lo chiedono anche sui social esiste ancora intanto è un partito sicuramente di centrosinistra è un partito che in questo momento sta in difficoltà sicuramente ma che sta reagendo perché differentemente da quello che sono altri movimenti è proprio è democratico cioè ha dei processi interni democratici che tendenzialmente dovrebbero portare ad un dibattito limpido ed aperto su quelle che sono anche le motivazioni che hanno determinato questa crisi in questo momento quindi ovviamente riflessione dopo il 4 marzo ciò che è successo e anche i segnali che arrivano anche dagli elettori che sono apparentemente sempre più scontenti diciamo o comunque poco affezionati a questo partito ma io sono convinto che il congresso che stabilirà il nuovo segretario sarà un momento importante per rilanciare il partito democratico rilanciarlo su temi che interessano ai cittadini e soprattutto sarà il momento in cui forse faremo i conti su quello che possono essere state le motivazioni della sconfitta anche perché io non ritengo che tutto ciò che sia stato fatto dal governo del partito democratico nei passati cinque anni sia integralmente da gettare al vento ci sono state tante cose fatte bene altre cose che ovviamente ci pongono nella necessità di riflettere Ecco ma quali sono queste difficoltà a cui lei fa riferimento? Difficoltà di penetrazione nell'elettorato o di aver tralasciato l'elettorato magari più di sinistra per andare incontro a quello del centro? Quali sono? Ma a mio parere intanto le problematiche sono anche state problematiche in natura comunicativa cioè il partito non è riuscito a comunicare perfettamente stando nel ruolo di governo quelle che erano tutte le proposte e le novità che si andavano pian piano a stabilire Il problema è stato anche una presenza minore del partito nei territori secondo a mio parere proprio voglio ricordare un tempo si facevano sistematicamente le feste dell'unità sicuramente quello era anche un momento per poter fare analizzare insieme ai simpatizzanti agli elettori quelle che potevano essere tematiche nazionali Si deve tornare nelle strade ma si deve anche imparare a utilizzare i nuovi sistemi che ormai nuovi non sono più come i social e tutto ciò che è in grado di poter creare un dibattito ed eventualmente formulare una proposta che sia il maggior rappresentativa, maggiormente rappresentativa di quelli che sono gli elettori di centro-sinistra Sicuramente il partito democratico nasce come fusione di due soggetti, Margherita e di esse rappresentanti da un lato una impostazione più di sinistra derivante dai vecchi partiti della sinistra al partito comunista l'altra sicuramente un po' più centrista in particolare da quella che poteva essere le correnti più di sinistra della democrazia cristiana Oggi secondo me queste diciamo è importante anche riscoprire che cosa vuol dire essere magari di sinistra perché su alcuni temi che sono oggetto del dibattito quotidiano anche penso all'immigrazione e a tanti altri temi è importante insomma anche approfondire quelle che sono i sentimenti di malessere della gente Ecco Di Fazio è curioso questo aspetto della comunicazione che manca o è stata fatta male soprattutto per l'elettorato di sinistra Insomma lei ha citato le feste dell'unità, prima si facevano le feste dell'unità, mi vengono in mente la Piana, Reatina ad esempio, zone rurali Si vendeva anche porta a porta il giornale l'unità, non so se lei se lo ricorda, è giovane quindi non se lo ricorda Più o meno siamo coetanei E quindi è curioso che quella capillarità che c'era oggi non c'è anche in virtù dei nuovi mezzi che ci sono I social, parliamo dei social Si questo è curioso e secondo me quella era forse probabilmente la grande forza di un grande partito di sinistra Cioè quello di entrare nelle famiglie, di parlare con la gente, di magari anche mediante la distribuzione di un giornale o di materiale diciamo anche di propaganda Era anche un momento per poter parlare con le famiglie, parlare con le persone, sentire un po' quelli che erano gli umori della gente Secondo me noi dobbiamo tornare a una organizzazione di questo tipo anche all'interno e quindi senza guardare sempre quelli che sono le sfere nazionali che sicuramente hanno anche loro delle cose da modificare in modo importante Ma anche noi nel nostro piccolo dovremmo probabilmente ritornare a un partito che riesce comunque a rientrare nelle famiglie a sentire quelli che sono i problemi reali della gente Chi vuole fare politica attiva deve comunque sia stare a sentire quelle che sono le problematiche delle persone Non dico che non siano state sentite perché anche noi, il gruppo del consigliare del Partito Democratico che già prima era nella rappresentanza della precedente amministrazione di centrosinistra come anche gli amministratori, come anche oggi gli amministratori sono sicuramente persone che sono vicine alle situazioni di difficoltà delle persone però purtroppo io credo che anche qui non riusciamo poi dopo a ottimizzare quelle che sono le nostre possibilità Noi dobbiamo cercare di rientrare all'interno degli interessi delle famiglie sicuramente utilizzando quelli che sono i mezzi ormai più veloci cioè i social network perché quelli bombardano continuamente ma non è sufficiente utilizzare il mero social network Noi dobbiamo tornare a parlarci con la gente perché comunque la notizia che viene utilizzata nel social network si presta più a una politica non attenta al messaggio provocatorio che spesso parla più alla pancia che alla testa della gente invece se noi vogliamo tornare a far ragionare la gente dobbiamo iniziare a rientrare dentro le case delle persone dobbiamo iniziare a riconvolgere le persone su quelle che sono dibattiti pubblici, aperti e dobbiamo dare l'idea che questo è un partito aperto dove le decisioni vengono prese da tutti Ultimamente questo non mi sembra sia stato fatto un po' in generale nella politica soprattutto però in un partito che si dice insomma Certamente perché io penso che ultimamente abbiamo avuto una grande opportunità l'opportunità quella che ci era stata fornita diciamo dal nuovo leader diciamo che Renzi il quale si era diciamo impostato con un concetto di rottamazione, di partecipazione la Leopold se vogliamo era il momento in cui si creavano quei dibattiti che poi dovevano arrivare e quindi aprirsi a una piazza che poi arrivava alla proposta Questa cosa secondo me era un'ottima idea, una buona cosa ma non è stata poi ottimizzata nel migliore dei modi se no non ci troveremmo sicuramente in questa situazione Lei porterà avanti questa linea all'interno del partito quando dice dobbiamo fare, dobbiamo fare ma quando si farà? Allora io dico questa, la linea che io porterò nel partito intanto io sono, essendo segretario del circolo di Rieti l'ho detto in tutte le varie riunioni il mio obiettivo è quello di tutelare ovviamente gli interessi della mia città nelle sedi dove il mio partito oggi diciamo gestisce il potere amministrativo se vogliamo o rappresentanti amministrativi per cui noi per tornare ad essere voglio dire anche credibili siamo disponibili anche a fare delle battaglie pur se dovessero andare contro quelli che stanno diciamo cosiddetti ai piani alti perché la prima cosa che noi dobbiamo trasmettere alle persone è la consapevolezza reale che noi siamo qui a difendere gli interessi dei cittadini e quindi questo da un lato è l'impostazione che noi intendiamo dare diciamo al ruolo del territorio e quindi da questo punto di vista io penso che sia importante stabilire insieme anche alle altre forze alle altre forze sociali e quant'altro quella che deve essere la visione di rilancio di questo territorio e portare questa visione in tutti i modi e alla come dire a segno nei posti dove poi alcune decisioni vengono prese ecco lei non è in consiglio comunale come vede dall'esterno se così vogliamo dire l'operato dell'opposizione dell'attuale opposizione di cui fa parte il suo partito e l'operato della giunta beh allora intanto è chiaro che il clima spesso si accende perché la campagna elettorale che ha portato poi all'affermazione di questa maggioranza oggi è stata diciamo dai toni decisamente accesi forse secondo me toni anche che in qualche momento se ne sono anche passati voglio dire e quindi è chiaro che c'è comunque sia una situazione diciamo di grande contrapposizione se vogliamo secondo me da questo punto di vista io almeno voglio fare una considerazione è importante che comunque anche lo scontro politico rimanga sempre nell'ambito di una civile dialettica perché quando poi si inizia a trascendere quando si usa per esempio il giustizialismo poi diventa molto complicato ristabilire una una dialettica corretta e diamo anche la possibilità a quei movimenti tra virgolette i cosiddetti populisti di intercettare del consenso proprio perché facciamo pensare che la politica sia un qualcosa veramente da da circo insomma sostanzialmente che voto dà l'operato dell'opposizione? L'opposizione diciamo io posso dire che oggi io posso sicuramente la sufficienza c'è nel senso che comunque sia è difficile dare un giudizio all'operato di un'opposizione entro il primo anno di governo di una maggioranza è più facile dire dopo un anno di governo che voto dare a una maggioranza in questo caso alla nuova giunta che è sicuramente una piena insufficienza per quanto mi riguarda in piena insufficienza perché? perché su alcune tematiche che erano state diciamo temi forti della campagna elettorale non sono state svolte scelte decisive penso per esempio alla problematica dei servizi dell'affidamento dei servizi ASM penso per esempio a Riedi 2020 io ricordo da assessore allo sport avevamo lasciato una serie di progetti allegati al discorso molto ampio di Riedi 2020 che se io fossi stato una nuova compagine governativa ad entrare l'avrei immediatamente cercato di realizzare perché poi comunque al cittadino quello che rimane impresso è la visibilità di un'opera realizzata io ricordo per dire nell'ambito di quella porzione di città c'erano degli interventi importantissimi sugli orti di via desider sul palazzetto dello sport c'era addirittura un progetto definitivo approvato dalla giunta per un milione e ottanta mila euro mi pare il campo scuola ma la piscina comunale cioè erano la pista ciclabile degli interventi da fare senza perdere tempo su magari spostare non so il finanziamento e tentare di spostarlo sul mercato coperto un bando delle periferie non può a mio parere essere compatibile con il mercato coperto e comunque quella cioè l'indirizzo potevano essere svolte altre attività finalizzate a trovare altri fondi per il mercato coperto certamente ma non spostare un finanziamento su un progetto che oggettivamente era stato già vagliato da varie non è un po' presto però per giudicare secondo me un anno e mezzo è passato non tantissimo secondo me no perché alcune cose potevano essere avviate perché quel progetto non prevedeva l'inizio diciamo contemporaneo di tutte le opere ma alcune potevano essere avviate per esempio il palazzetto il palacordoni poteva essere già avviato per esempio la pista ciclabile poteva essere avviata cioè alcune cose dovevano essere avviate a mio parere sarebbe stata una buona cosa avviarle immediatamente il voto che diamo quindi? sicuramente è insufficiente un 3 3 è gravemente insufficiente sul bilancio non possiamo dare un buon voto sulle partecipate non possiamo dare un buon voto sugli finanziamenti che potevano entrare in città non lo so so che sono parcheggiati alcuni project financing nell'ambito sportivo non so sulle scuole non ho capito ancora qual è il cosiddette scuole sicure insomma su tutta la vicenda del terremoto sicuramente ci sono responsabilità molto ampie ma ciò non esime comunque sia da una responsabilità molto importante da parte dell'ente che deve gestire questo non sento più parlare del progetto del rilancio del terminillo dice ma il comune che c'entra? c'entra perché se uno ci crede rispetto a queste vicende su queste vicende penso che debba metterci tutti i giorni la faccia è uno dei comuni del terminillo è uno dei comuni del terminillo e probabilmente quello che ne riceverà maggior beneficio non sento parlare per esempio in questi giorni si è tanto parlato della salaria e quindi delle infrastrutture beh io credo che su questo non ci potranno essere almeno spero voci discordanti tra le varie anche movimenti e partiti politici maggioranze e opposizioni sul fatto che comunque dovrà essere fatta una battaglia comune tra tutti i cittadini per dare un futuro a questa città perché noi dovremmo tutti quanti iniziare a pensare ma che cosa sarà questa città fra vent'anni cioè se noi non iniziamo a dare una visione del domani sarà complicato perché noi vogliamo che sia una città un quartiere periferico di Roma anche quella può essere una visione può essere una visione ma se noi non lo colleghiamo non ci diventeremo mai in breve mi dice la sua visione tra vent'anni di Rieti beh io dico questo che intanto c'è un elemento c'è un elemento che nessuno ci potrà mai togliere che sono le peculiarità della città stessa quindi sappiamo tutte le peculiarità ambientali la vicinanza con un grosso centro come Roma il fatto che comunque si trova in una zona centrale del paese il fatto che c'è stata una tradizione agricola molto importante il fatto che comunque ci sono delle iniziative importanti che vengono anche oggi che tentano di ridare un profilo di industrializzazione a questa città penso all'IBM alla Shire che stanno facendo degli importanti investimenti ma tutto passa a mio parere sul discorso delle infrastrutture quindi se noi vogliamo dare un futuro a questa città noi dobbiamo fare in modo che questa città sia aperta quindi trovi la possibilità di attrarre la gente nel più breve tempo possibile quindi infrastrutture io penso che il tema infrastrutturale sia la cosa più importante perché poi tutto si lega a questo si lega sia all'industrializzazione o il turismo la vivibilità il fatto che così potremmo sfruttare ovviamente il bacino che esplode i bacini romani e vicini il terminillo tutto ciò che ruota intorno a queste peculiarità non delocalizzabili questo è il discorso una curiosità personale se vogliamo se mi può rispondere lei è stato l'ultimo assessore allo sport ma non ha avuto un erede diciamo così come la vede questa cosa che c'è un consigliere delegato ma non c'è un assessorato beh non so io credo alla Roma la Roma calcio praticamente quando Totti se n'è andato aveva pensato di ritirare la maglia numero 10 probabilmente hanno fatto apposta ridiamo l'assessorato ma io penso che sia importante e sia giusto dare dignità a un settore come quello dello sport che per Rieti è veramente importante cioè noi siamo una città di 50.000 abitanti no neanche che però vede una serie di discipline stare comunque a livelli molto alti quindi come si può non dare una visibilità diciamo anche fisica ma poi io me ne rendo conto cioè non vorrei mettermi nei panni voglio dire oggi del consigliere Donati il quale ovviamente può anche sforzarsi nel dire comunque io sono praticamente assessore no ma non è la stessa cosa io mi sarebbe piaciuto vederlo un assessore allo sport ovviamente come giudica il suo grado finora del consigliere Donati mi rendo conto che abbiamo un po' più di tre ma sicuramente sì anche perché poi alla fine è un amico per cui non potrei dargli un voto inferiore una domanda sulla prossima elezione del segretario regionale del Partito Democratico torniamo al partito per il dopo Melilli Rieti se non sbaglio mi corregga cinque delegati che voteranno per chi voterete? allora intanto in realtà funzionerà in modo diverso ci saranno le primarie domenica mi pare 24 che saranno proprio gli elettori e quindi gli iscritti a decidere chi sarà il segretario regionale per cui come si faranno le primarie per il segretario nazionale ugualmente si faranno le primarie per il segretario regionale noi a livello di circolo abbiamo eletto cinque delegati alla convenzione regionale già precedentemente ma diciamo che oggi il problema è superato perché diciamo i regolamenti i nostri prevedono che entro i tre candidati non è necessario esprimere il voto della convenzione regionale quindi se fosse stato un quarto candidato è un po' cervellotica di fatto se lo sbaglio però purtroppo questo è un po' il regolamento del nostro partito ma non è tanto cervellotica perché diciamo fino a tre sono ammessi dopodiché devono essere massimo tre i candidati alla segreteria regionale e quindi se fossero stati cinque a quel punto si sarebbe espressa la convenzione regionale per decidere chi dovevano essere tra quei cinque i tre però in questo caso noi possiamo dire che abbiamo tre candidati di cui uno è il Astorre il senatore abbiamo Mancini e Alemanni che è un un ragazzo più giovane diciamo è Andrea Alemanni ora il territorio ovviamente saprà vedrà come potrà liberamente esprimersi votere per il più giovane immagino noi voteremo per chi è più vicino all'esigenza del territorio almeno questo almeno io personalmente farò così per cui non lo dirò sicuramente da segretario non potrò anche se l'area è vicino orientare il voto degli altri perché se no se l'area è vicino insomma al governatore attuale ma questo lo diciamo noi probabilmente sì facciamo un gioco facciamo un gioco così ci rilassiamo perché poi il bello verrà voglio dire dopo perché a quel punto noi abbiamo una partita importante che è quella del segretario nazionale vedremo chi saranno i candidati sicuramente Zingaretti lo sarà per noi ci sarà anche Renzi ma non credo l'altro giorno ha detto che lui non è in partita per cui Renzi non ci sarà vedremo vedremo chi ci sarà al posto di Renzi si parla di Minniti Martina sembra che Renzi ci sia sempre però è per forza perché al momento l'assemblea nazionale conta diciamo buona parte di di Renziani di Renziani bene bene gioco del pozzo il gioco del pozzo chi butta giù nel pozzo tra Renzi e Zingaretti quindi beh allora a questo punto diciamo Renzi sicuramente buttiamo nel pozzo Renzi questa questa è una notizia ma anche perché ci si è buttato voglio dire un po' anche da solo rinunciando a competere nel futuro daremo replica a Renzi se ci vuole dire qualcosa poi sentiremo tra Mezzetti e Petrangeli chi butta giù? beh io non posso buttare giù Mezzetti perché è troppo quantomeno perché perché è un compagno di partito per cui non potrò mai buttare lui quindi preferisco Petrangeli tra Donati e l'assessore Masotti beh tra Donati e l'assessore Masotti direi l'assessore Masotti però poi siccome so che avrebbe difficoltà probabilmente a risalire il pozzo allora così mi affido siccome bonariamente mi affido più a Donati che sono convinto che lui lo saprà è un atleta quindi è un atleta lo saprebbe sicuramente risalire quindi buttiamo Donati buttiamo Donati così lui sarà in grado di risalire ricordiamo che è un gioco a turno tocca a tutti l'ultima domanda siamo in chiusura ma lei si è mai sentito una rana nel pozzo? beh io penso di sì perché comunque ogni volta che qualcuno inizia una nuova esperienza ha sempre bisogno comunque sia l'orizzonte che vede è molto limitato poi magari pian piano impegnandosi cercando di capire meglio l'orizzonte si apre quindi secondo me ogni volta che si inizia una nuova esperienza diciamo il cielo sembra sempre molto limitato però poi dopo magari studiando applicandosi e vedendo e sentendo magari le esperienze di altri si riesce anche a risalire il pozzo e a vedere un po' più chiaramente le cose che uno ha intorno grazie per la chiacchierata di Fazio la rana nel pozzo vi do appuntamento giovedì prossimo un saluto a Matteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.